Il sindaco di Vallecrosia, Armando Piasi, commenta il risultato delle elezioni provinciali. Il secondo livello per cui ci eleggono non i cittadini ma tutti i consiglieri comunali della provincia. Quindi per me la soddisfazione è duplice perché nel 2023 a maggio sono stato votato dai cittadini vincendo le elezioni. A dicembre sono stato votato dai colleghi quindi vuol dire che la stima nei miei confronti è a 360 gradi. Chiaramente partendo da un comune piccolo perché sapete che c'è un voto ponderato ho fatto più fatica ma arrivare secondo sicuramente mi inorgoglisce. Quindi avremo davanti due anni di impegno oltre come sindaco anche come consigliere provinciale a fianco al presidente Scaiola che saluto e quindi auguro ai tutti i dieci consiglieri di lavorare per il bene comune. Perché anche se molte volte viene considerata la provincia un ente di secondo livello come dicevo prima invece ancora oggi è un organo che può ogni giorno risolvere i problemi importanti per i cittadini compreso i trasporti, l'acqua, l'ambiente, quindi i rifiuti. Quindi sicuramente sarà una sfida importante che mi vede coinvolto essendo stato sicuramente riconosciuto tra i più eletti della nostra provincia. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.